Buonasera, sono Marco Martelli della BLT Italia, siamo al BWE a Londra e vi presentiamo le nostre principali novità. Finalmente dopo tanto tempo potete vedere all'opera non solo i nuovi video server che qui sono rappresentati, ovvero l'SMS 4U in cui abbiamo 12 canali completi con fino a 16 terabyte di storage interno, MADI come opzione audio e 16 canali audio già presentati all'Ibicy. In più vedete la nuova versione del 4U in versione 4K e della versione IP. La versione IP ha gli standard SMPTE 2210-7 e 2010-7. Insieme a questo presentiamo anche la parte dell'SMS 2U che ovviamente è una macchina che ha dato talmente tante soddisfazioni della nostra azienda, non per tralasciare anche il sistema SMS 4U, ma è una macchina veramente molto versatile rispetto alla concorrenza. E infine il BLT Central Station. Per quanto riguarda la parte grafica è arrivato da questo mese l'upgrade per quanto riguarda la vera parte grafica intesa come linee, immagini e tutto quello che è possibile vedere sopra uno schermo touch. Vi abbiamo rappresentato il tutto su un bellissimo mobile a specchio con all'interno la tv incassata. Per esempio possiamo vedere quello che succede, possiamo scrivere quello che ci pare e commentare tutto quanto. Ovviamente il tutto è corredato dalle dimensioni più o meno grandi delle linee. BLT sta cambiando tecnologia, stiamo arrivando alla soglia del sessantesimo anno di compleanno che avverrà a novembre, il 17 novembre del 2019 e avremo ulteriori innovazioni. Innovazioni verranno presentate prima al NAB e poi per quanto riguarda IBC 2018. La nostra azienda è un'azienda che attualmente sta riprogettando il futuro anche della tv italiana, utilizzando la maggior parte della tecnologia proveniente da partnership con aziende estere molto importanti e presenti sul campo come BLT da tantissimi anni. Arriveranno altre partnership e potranno portare i BLT ad essere uno standard riconosciuto in maniera tale che tutte le aziende potranno essere orgogliose di avere un'azienda italiana presente dal 1959 con una grande storia alle spalle ed un futuro radioso per tutto il settore broadcast. I prodotti di punta sono in continua evoluzione e la cosa che dobbiamo sottolineare è soprattutto dovuta al fatto che questa è un'azienda che non dà una ricetta già preconfezionata ma dà principalmente una possibilità di tagliare i propri prodotti che essa fa con quello che il cliente ricerca. 24 ore su 24 assistenza sia a livello telefonico sia dal livello di Whatsapp e nessuno può dire che la nostra azienda non è un'azienda presente sul campo. Io stesso molte volte mi recco a controllare dei sistemi già presenti insieme ai miei colleghi e a tutta l'azienda stessa cerchiamo di portare le innovazioni, le migliorie e raccogliamo i frutti di quello che ci dicono sia gli operatori sia tutti gli ingegneri tecnici. Il futuro è qui. BLT. Grazie a tutti. Grazie.